il circondario pavernitano viene incendiato a frequenza di ogni due tre anni su più punti e contemporaneamente. Non sappiamo neanche se la magistratura è andata avanti, se hanno fatto delle indagini, chi è che appicca, qual è il movente per cui questi fuochi si appiccano. Questo è terrorismo. Chi appicca del fuoco di notte, sapendo che limita o totalmente annulla l'intervento delle unità per spegnere il fuoco, questo è terrorismo. C'è stato l'inferno perché era una condizione proprio incredibilmente favorevole per il fuoco. Sono stati momenti veramente difficili, cose che non dimentichi più. Altre anni il fuoco è stato vicino, ma non in questa maniera come l'abbiamo visto proprio quel giorno. Grazie a tutti.